Buongiorno a tutti, io sono Chiara e su questo canale vi parlo dei quadri più conosciuti e a cui sono affezionata. Oggi vorrei parlarvi della Natività con i Santi Giorgio e Vincenzo di Filippo Lippi. Filippo di Tommaso Lippi nasce a Firenze nel 1406 da una famiglia di macellai. Rimasto orfano di madre dalla nascita, cresce con la zia paterna per poi essere messo in convento all'età di otto anni. A 15 anni Filippo prende i voti e diviene frate carmelitano. Si sa poco della sua infanzia e della sua formazione, sappiamo però che a 18 anni osserva Masaccio e Masolino che decorano la Cappella Brancacci e lì ha l'illuminazione. Lui sarà pittore. Filippo Lippi viaggia molto, si sposta Prato, Siena, Padova. Qui viene a contatto con la pittura fiamminga e cerca di riportarne lo stile nella sua toscana, nonostante i colori che usa siano tempere e non colori a olio. Tornato a Firenze apre addirittura una sua bottega. Tutte le sue opere ovviamente sono a tema religioso e come pittore è apprezzatissimo. Le commissioni aumentano via via col passare degli anni. Nel suo ruolo di religioso invece è meno apprezzato soprattutto dai colleghi. Se verso la pittura Filippo ha una vera e propria vocazione, non possiamo dire lo stesso per la religione. Conduce una vita quantomeno movimentata. Passa le serate nelle osterie, talvolta viene coinvolto in risse, si assenta spesso dal convento non adempiendo ai suoi doveri. Viene addirittura rapito dai pirati mentre viaggia sulla costa adriatica e trascorre un anno e mezzo in Africa lavorando come schiavo. Ed è solo grazie alle sue doti artistiche che riesce a tornare in patria. Una sera infatti esegue su un muro bianco il ritratto del suo padrone, il corsaro Abdul Maomen, usando un ciocco di legno bruciato. Il corsaro rimane così colpito dal suo talento che lo lascia libero. Insomma ha una vita avventurosa e al di sopra delle regole e nel tumulto di questa indole sanguigna non può mancare l'amore per le donne. Filippo Lippi si innamora facilmente e frequentemente e all'apice della sua fama scappa con Lucrezia Butti, una suora conosciuta mentre dipinge gli affreschi del convento di Prato. Insieme avranno un figlio filippino e anche lui diverrà pittore affermato. Ma perché vi dico questo? Non tanto per amore del pettegolezzo quanto per farvi capire di che importanza godesse l'artista all'epoca. In una condizione standard Lucrezia sarebbe stata riacciuffata e rispedita in convento, il bambino affidato a qualche parente e Filippo mandato velocemente in esilio in qualche landa desolata possibilmente dopo qualche punizione corporale. Ma questo non accade perché Filippo gode della stima e della protezione di Cosimo de' Medici tanto che grazie al suo intervento il papa in persona scioglie i voti a lui e a Lucrezia. Da qui Filippo, uomo libero, riprende a viaggiare e a svolgere il suo lavoro in varie località portandosi dietro a un certo punto anche il figlio. E qui veniamo al nostro quadro. Siamo negli anni compresi tra il 1455 e il 1466 e Filippo Lippi dipinge la natività con San Giorgio e San Vincenzo. In questa tavola di forma quasi quadrata c'è la tipica scena dell'adorazione del bambinello. Gesù è sdraiato su parte del vestito di Maria posto direttamente per terra come metafora di umiltà. Alza le manine verso la mamma. Maria lo guarda pensierosa e anche San Giuseppe è assorto. A sinistra ci sono San Giorgio e a destra San Vincenzo Ferrer, entrambi in piedi. Sullo sfondo c'è un paesaggio roccioso su più libelli con due pastorelli e un coro di angeli in alto. Sulla sinistra si vedono anche la capanna con il bue e con l'asinello e addirittura è ritratto un cagnolino. Attorno a Gesù infine c'è simbolicamente una folta vegetazione che fiorisce. Quest'opera viene dipinta in più fasi, tanto da essere stata terminata dopo circa 11 anni. Si dice che ci sia la mano anche di Filippino e del Botticelli che da Lippi ha preso lezioni. Probabilmente i santi laterali sono stati aggiunti in un secondo momento, ma di sicuro Gesù, Maria e San Vincenzo sono stati dipinti dall'artista in persona. San Giorgio è assorto, senza il classico drago che lo contraddistingue nell'iconografia tradizionale. Indossa sì l'armatura, ma è fermo e silenzioso, ha un viso delicato ed è lontano dalla sua solita immagine battagliera. San Vincenzo Ferrer guarda invece a destra verso quello che potremmo definire una premonizione. Nella visione a forma di mandorla compare un Gesù adulto e giudice. A dare coerenza a questa figura è anche la frase in latino riportata sul libro che San Vincenzo regge con la mano destra. È una scritta tratta da un verso dell'Apocalisse che tradotta in italiano sarebbe temete Dio e dategli gloria perché è giunta all'ora del suo giudizio. San Vincenzo è una figura contemporanea al pittore ed è stato canonizzato proprio nel 1455. È considerato un santo molto importante perché contribuisce alla riunificazione della Chiesa durante lo scisma. È probabile dunque che i Domenicani abbiano commissionato a Filippo Lippi questa tavola soprattutto per cereblare questo santo. Il volto di Maria riprende lineamenti soavi proprio dell'amata Lucrezia e nel viso del bambinello è ritratto al volto del piccolo Filippino. In generale l'atmosfera è contemplativa e silenziosa immaginando la scena potremmo sentire solo gli strumenti dei pastori e il coro degli angeli ma da lontano in sottofondo. La composizione è a V e le linee convergono verso il vertice in basso cioè proprio dove c'è Gesù. Filippo Lippi muore all'età di 63 anni e oggi è considerato uno dei più importanti esponenti del rinascimento italiano. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, se il video vi è piaciuto potete mettere un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati. Io vi auguro un meraviglioso Natale e vi aspetto qui con me nel 2024. Grazie a tutti.